L'Italia sconta un ritardo enorme, l'Italia è agli ultimi posti in Europa e nel mondo nell'ambito dei pagamenti elettronici e qui c'è una grande opportunità di incremento dell'efficacia del sistema paese, della trasparenza e anche di migliori servizi ai cittadini perché c'è coinvolta la pubblica amministrazione, tutto il settore consumer e soprattutto la trasparenza e la chiarezza non può che far bene al paese, inoltre se si implementa una cashless society proprio in senso ampio si sviluppa meglio un'industria tecnologica che si occupa dei pagamenti e della relativa sicurezza, quindi l'Italia è molto indietro, ha molto da guadagnare a farlo e quindi dobbiamo muoverci.